Il programma Non Solo Musica è offerto da Stroppiana Automobili di Stroppiana Ivan Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il programma Non Solo Musica in onda come ogni venerdì qui su Telegram da Canale 186 e benvenuti anche al pubblico qui a Risto Music Pub Marilu ma in questo percorso non sono da solo ma ho deciso di farmi accompagnare da una presenza femminile e con questo cogliamola con un grande applauso Sandra Buonasera, buonasera a tutti benvenuti al pubblico di Non Solo Musica tutti qui presenti al Risto Music Pub Marilu Claudio, in questi nostri appuntamenti del venerdì abbiamo potuto apprezzare e ammirare naturalmente vari gruppi musicali rock, blues, liscio tribute band vari generi comunque che ci hanno divertito ci hanno fatto emozionare in vari versi ma questa sera le mie orecchie hanno potuto apprezzare una musica diversa ci puoi spiegare chi sono questi nostri amici? musica tradizionale e folk questa sera la fanno da padrone e accogliamoli con un grande applauso Lou Serpent benvenuti, benvenuti ma a questo punto andiamo a conoscerli nel dettaglio e li presentiamo uno per uno come ti chiami? Marco suoni, canti? chitarrista come ti chiami? ciao, Eleonora è bionista come ti chiami? ciao, sono Serena e sono la pianista e tastierista ecco qua Adriana, cantante e Eugenia Flautista complimenti, complimenti a tutti bravissimi adesso diamo spazio alla musica andiamo ad ascoltare i vostri fantastici pezzi buon ascolto a tutti grazie a tutti bravissimi ballerini grazie a tutti grazie a tutti buon ascolto a tutti buon ascolto a tutti grazie 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 a tutti. 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 Grazie.